Siamo qui oggi con il dottor Igor Di Carlo che è titolare negli ambulatori oculistici Igor Di Carlo e responsabile del servizio oculistica del Policlinico San Luca di Torino. Oggi approfondiamo un tema che io ritengo veramente nuovo, quantomeno per chi ci segue su Dica33. Come l'intestino, la salute del nostro intestino, può influenzare la salute del nostro occhio? Sembra incredibile, ma è vero. La salute del nostro intestino può influenzare il nostro occhio. D'altronde, se andiamo a esaminare il nostro tubo digerente, la parte più alta non è la bocca, ma in verità sono le vie lacrimali che sono connesse direttamente con tutto il resto del nostro intestino. Chiaramente con dei limiti, non si può andare liberamente, i nostri batteri non possono correre liberamente da una parte all'altra, però questa influenza esiste. Ed esiste, devo dire, in alcune patologie che sono importanti e poco apprezzate. Per esempio c'è una sindrome detta dell'occhio irritabile, che in verità è stata individuata e scoperta in epoche insospettabili, addirittura nel 1990, che ci parla di pazienti con un occhio costantemente rosso, una sindrome depressiva, quindi un morale sotto i tacchi e dei problemi gastrici. Però questo paziente può sembrare il classico persona afflitto da problemi immaginari e che magari può essere anche trattato superficialmente dalla classe medica, mentre invece si tratta di patologie vere e proprie che originano da uno scompenso della nostra flora batterica intestinale. Lo scompenso della flora batterica intestinale come si cura? Si cura reintegrandola, eliminando in casi patologici particolari le cause che possono averla determinato, ma soprattutto reintegrandola. E la reintegrazione è un processo un po' diverso da quello che vediamo nelle pubblicità dei supermercati, dove si pesano gli yogurt a miliardi di batteri contenuti in essi. Quindi una sana alimentazione e una cura fai da te, oppure no? La domanda mi sembra ovvia. Assolutamente cure fai da te non convengono. Alcune regole alimentari sono importanti, però è meglio lasciarle a dei professionisti del settore come dei medici specializzati in scienza dell'alimentazione. Mentre per quanto riguarda la selezione dell'integrazione del microbiota intestinale, è opportuno usare prodotti indicati dal medico di farmacologia e soprattutto bisogna ricordarsi un concetto molto importante. Queste cure devono essere prolungate, si parla di vari mesi e si parla di orari precisi nei quali ogni giorno si deve assumere la corretta quantità di batteri per reintegrare la nostra flora batterica intestinale, che dipende anche dalle abitudini alimentari e dalle necessità del singolo soggetto. Quindi un approccio serio, professionale a questo problema.